ora dopo 24 ore dall'ultimo video per farvi vedere la differenza ieri hanno mangiato i grindal guardate sono già leggermente più cresciuti rispetto a ieri magari sul video non si vede molta differenza però vi dico che sono già cresciuti cioè quando si danno i grindal si ha questo sbalzo di crescita però appunto non può essere dato sempre guardate come sono già più grandi celli oggi continuando sempre l'alimentazione però ripeto non posso dare sempre i grindal perché dando poi sempre i grindal si va di infiammazione della vescica senza aver problemi non date ogni tanto però sia appunto si dà questa marcia in più cioè hanno già avuto uno sbalzo di crescita pazzesco rispetto a ieri ripeto magari sul video non si vede oggi invece metto per cambiare le moine che sono un alimento meno nutriente dei grindal stanno prendendo già le moine i grindal sono proprio una bomba atomica però è un alimento vivo l'importante è sempre dare il vario vivo c'è stato già un buonissimo momento di crescita quando darò i grindal fra almeno due giorni altri li darò grazie per l'attenzione alla prossima